Musica 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 Qu'è? Salve? Già Cosa? Mi serve il mio libro uno qualsiasi no guarda c'è l'ascolto qua la storia del pensiero socialistico ok, lo trovi praticamente nella sezione diritto da quella parte dopo l'aula studio a sinistra c'è uno scaffale l'ultima sezione hai capito? va bene sicura? sì, grazie 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 Grazie. Il cinema secondo Hitchcock? Sì, dovrei averlo qui perché l'hanno consegnato oggi. Aspetta un po' lo prendo. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa, i libri li devi registrare? Sì, sì. Li prendi tutti? Ok. Ok. Grazie a tutti. Aspetta, c'è un libro per te. Per me? Sì. Da parte di Alice. Alice? Me lo fa un favore? Sì. Può dare questo libro? Da parte mia, da Alice? Certo. La ringrazio. Di niente. Arrivederci. No. Alla parte di Alice. No. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.